Anzi, Dio mio, cercare di lavorare da una scuola o dal più di una scuola. Aspetta, cercate di lavorare in squadra. Non so se riuscite veramente a lavorare con una voce, perché è là il meglio del lavoro di squadra. Una voce non vuol dire quando quando dice signore, signore, è un strassi particolare e dice Signore! Oh, è di stupidità, capite com'è? Una voce di squadra. Proviamo! Uno, due, tre! Non risponde! Non risponde! Non risponde! Elisciate! Uno, due, tre, qu ascend, qu Aungo, cinque, sei, sette, o purple, nove, dici, Fraserio, Torpen! 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 39, 40. Ok, grazie mille per la vostra patricicazione Grazie.